Il Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei Ministri Afferma il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini che i musei riaprano nelle zone gialle almeno nei giorni feriali. È un servizio ai residenti ed un segnale per i cittadini. Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non perde occasione per richiamare i cittadini. Già negli ultimi giorni registriamo un incremento di ricoveri nelle nostre strutture sanitarie, denuncia il Governatore, ribadendo che la zona gialla non è sinonimo di liberi tutti. Una settimana di comportamenti responsabili, avverte De Luca, può trasformarsi in mesi di chiusura.